Il Credito Cooperativo Nazionale ha deciso di coprodurre il film L'amore rubato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere. Tramite il nostro istituto centrale delle banche di credito cooperativo abbiamo cofinanziato la produzione di questo film qui. La banca di credito cooperativo è certamente un istituto di credito molto attento a queste tematiche. Non a caso nel corso di quest'anno abbiamo finanziato o aiutato un progetto portato avanti dall'ASP che è l'associazione dei servizi alla persona. Il nostro è un servizio che da anni cerca di dare sostegno alle donne in difficoltà e ai nuclei familiari fragili. Si parte prima di tutto con l'accoglienza della donna e l'accompagnamento alla consapevolezza di star subendo violenza e della gravità della presenza dei minori in un nucleo familiare in cui si agisce violenza. Gli studi ci confermano che assistere ad una lite violenta fra genitori è grave per i bambini a livello di sviluppo armonico, psicologico ed emotivo e tanto quanto aver preso le botte in prima persona. Quindi il lavoro che facciamo è un lavoro prima di tutto di promozione del benessere, dei nuclei familiari, quindi di consapevolezza su donne minori e poi di sostegno alle donne che vogliono affrancarsi dall'uomo violento. Quindi nel sostegno ci sta una parte psicologica di accoglienza, di cancelling eccetera ma ci sta anche proprio una parte di accompagnamento verso i centri antiviolenza per chi ha bisogno di essere messo in protezione e anche una parte di sostegno economico fino a che la donna non riesca ad essere autonoma quindi di accompagnamento verso la ricerca lavoro, la ricerca di una casa autonoma.